Stiamo imparando a vedere che la disponibilità è importante, può aiutare molte persone, perché senza tutti questi volontari le tragedie sarebbero ancora peggiori. Direi che la lezione straordinaria è stata recepita nei migliori dei modi, dei ragazzini protagonisti della dimostrazione della protezione civile, pompieri alpini volontari operativi nei momenti di bisogno e attivi nel Bassanese e dintorni. Per due giorni a Parco Ragazzi del 99 di Bassano si mettono in mostra le tante persone che con i loro mezzi risultano indispensabili nella necessità e i più giovani hanno colto in pieno il messaggio tra idranti, incendi da spegnere e percorsi. E' divertente che spegne gli incendi tipo con idranti. Però è pericoloso eh. Sì, da una parte. Adesso noi lo facciamo così per giocare, però in realtà è difficile. E' una cosa seria, cioè è una cosa seria. E chissà che tra loro non si nasconda un futuro volontario di protezione civile. Ma tu da grande pensi di così far parte di un gruppo come può essere la protezione civile oppure far parte di questi gruppi di volontariato per aiutare il prossimo ti piacerebbe? Sì, vedo. Anche io sarei anche divertente. Pende anche se hai tempo tipo da grande con la famiglia e robe varie. Si sto pensando però sarebbe una bella idea.